Eccoci tornati con la nona puntata di Divertiamoci, siamo qui allo stadio Maglio Scopinio Centro d'Italia di Rieti con Francesco Marcheggiani, innanzitutto benvenuto Francesco. Ciao, buon pomeriggio a tutti. E allora andiamo chiaramente adesso ad approfondire la stagione del Rieti partendo appunto dall'ultima giornata, dalla vittoria che avete ottenuto nel derby contro il Flaminia Civita Castellana, che partita è stata Francesco? Sì, è stata una partita di rilancio, dopo la sconfitta di Avezzano ci siamo subito rilanciati verso la Vietta con un grandissimo gol di Gigi e un altro gol di Jack Lemartis che ci hanno portato i tre punti importantissimi e ritrovato la Vietta insieme all'Arzaghe, quindi è andata bene. Nei piani alti della classifica sicuramente c'è Bagarre, tante squadre in pochi punti, secondo te cosa farà la differenza in questo finale di stagione? Sì, tra l'altro tutte ottime, anzi grandissime squadre, il Monterosi, l'Ostiamare che se non sbaglio ha fatto sei vittorie consecutive che stanno a tre punti, poi l'Arzaghe che ha sbagliato da, se non sbaglio, da 21 partite, solo una sconfitta ha fatto, quindi è molto difficile, sicuramente vincerà chi farà meno errori. Quindi arriveremo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata che secondo me sarà aperto il campionato. Mi auguro che poi si possa tornare qui a giocare la Lega Pro, chiarito. Ecco, qui tra l'altro tu sei veramente di casa, hai iniziato qui a giocare in prima squadra, poi successivamente ti sei trasferito, sei adesso nuovamente ritornato qui. Cosa vuol dire per te la città di Rieti? Beh, la città di Rieti è come se fosse una seconda casa, no, io ho vissuto sette anni qui a Rieti, tra l'altro parecchi nelle sorti della prima squadra e ho vissuto molte esperienze positive che ne eri, quindi mi auguro vivamente che possa essere un protagonista della cavalcata di Rieti andando in Lega Pro. E allora andiamo verso il campo così ci porti a conoscere anche lo stadio qui delle Rieti. Faccio vedere la nostra casa. Certo. Questo è un grandissimo stadio, penso che in Serie D non ci siano. Sicuramente è un impianto che meriterebbe altre categorie. Sì, questa è la segreteria dove stanno i direttori e tutto quanto, la sala stampa. Arriva il primo saluto in diretta di Federico Paparozzi. Ciao Fede, è un amico del paese. Sì, è un amico del paese. Voi vedi, troviamo qualcuno che ce la fa massaggiare come al solito. Bianchi! Niente, qui a destra si va il campo. Andiamo. Questo è proprio l'ingresso della domenica. Sì. Niente, guarda... Non c'entra questo stadio di Rieti. Questo è Luciani, ti senti Luciani? Forca Ciali! Questo è lo spettacolo che offre lo stadio di Rieti. Sicuramente uno splendido impianto dove appunto il Rieti gioca tutte le gare casalinghe. Dove nasce calcisticamente Francesco Marcheggiani? Quando nasce? E appunto sappiamo che sei di Terni. Sì, io sono un'altra Terni perché le vicinanze dell'ospedale è più... Poi ho iniziato con la Lazio fino ai giovanissimi nazionali. Poi sono venuto un anno da Rieti per poi andare altri due anni al Siena. e tornare di nuovo a Rieti. Poi ho iniziato i primi calci con la prima squadra qui nella Rieti. E sono fortunatamente un'esperienza importantissima a Reggio Emilia con la Reggiana per poi tornare in Serie D a Maccaresi. Ecco, noi ricordiamo perfettamente la stagione appunto prima del tuo trasferimento alla Reggiana dove hai raggiunto il massimo delle tue Rieti in una stagione 28 Rieti in 31 presenze Che ricordi di quell'anno? Quell'anno è stato un anno storico anche perché l'ultima vittoria dei Rieti è la Coppa Italia, no? Quindi è un'eccellenza. Poi i 28 gol, insomma, se tu vedi, me li ricordo tutti quanti dal primo all'ultimo. È stata una grandissima annata, eravamo una squadra molto giovane Poi c'era il mister che c'è adesso, il mister Paris un grandissimo allenatore. Tra l'altro, se non ricordo male, contuarete in finale nella finale di Coppa Italia. Sì, giochiamo a Salaria Sport Village perdiamo il primo tempo 1-0 poi ribaltiamo l'ultimo quarto d'ora se non sbaglio fece gol a Cristian Nippoliti grandissimo gol e poi feci un gol e io, se te lo dico come è nemmeno io so come ho fatto a mettere dentro quella palla. Ricordo bene. A livello di compagni di squadra in questi anni di carriera chi è che ti è rimasto nel cuore con cui hai magari stretto il miglior rapporto a livello umano? Quell'anno in eccellenza ci fu Andrea Pucino Diego Petrungari che poi ci ho giocato altri anni Tirelli anche Luciani quest'anno stiamo sempre insieme insomma Ecco, diciamo all'interno di uno spogliatoio quanto è importante poi stringere anche al di fuori dal campo? Nel frattempo arriva il saluto di Diego Pileri Il rapporto è importante perché poi arrivano anche risultati avendo un gruppo tutto raccolto, tutto unito magari tante volte si getta pure il cuore oltre l'ostacolo e quindi è importantissimo soprattutto a questi livelli Ecco, tu l'anno scorso hai messo a segno in Serie D 19 reti, quest'anno sei ad 8 gol speri di arrivare in doppia cifra? Sì, l'anno scorso è stata una grande annata anche arriviamo terzi a pari punti con la Torres in un campionato molto molto difficile quest'anno sì, ho fatto meno gol però mi auguro di vincere e vincere, siamo partiti con l'obiettivo di vincere speriamo di riuscire a vincere Ecco, tu hai parlato delle tue esperienze con la Lazio con il Siena avevi percezione anche di quello che accadeva in prima squadra sei riuscito magari a rubare con gli occhi qualcosa a qualcuno? Sì, con la Lazio era difficile perché ero molto piccolo quando giochiai a Siena facemmo molte partite con la prima squadra c'era Maccarone davanti, Portanova c'erano Manninger in porta quindi cozza quindi ogni tanto cercavi di rubare con gli occhi Ecco, e a livello di allenatori invece da chi è che hai imparato di più in questi anni? Beh, sicuramente dal mister l'ho avuto per tre anni poi ci sono altri grandissimi mister come Fabrizio Perotti Zauli a Reggiano quindi ho imparato molto anche da loro soprattutto mi hanno insegnato tanto Cosa ti ha spinto dopo comunque le esperienze che hai fatto fuori dal Lazio poi a rientrare qui nel Lazio e proprio nel Rieti? Sì, prima di tornare a giovanerì ho giocato anche a Gualdo Esatto Ti posso dire lì è una bella piazza parecchi anni fa sfiorò anche la Serie B perdendo i playoff con l'Avellino poi l'anno scorso c'è stata una chiamata insomma qui a Rieti mi si è aperto il cuore quindi qui a Rieti è casa mia Ecco, tu sei classe 91 quindi ancora molto giovane hai già idea di quale possa essere il tuo futuro? ti sei legato diciamo a Rieti o comunque chiaramente magari poi a fine stagione valuterai il tutto? No, magari se l'anno prossimo e Rieti mi vorrà sicuramente cercherò di rimanere qui però non si sa mai nella vita a qualsiasi occasione poi mi auguro di arrivare più in alto possibile che non sarà facile perché come dicevi il calciatore è difficile ci sono tantissimi giocatori bravi quindi morte tua, vita mia Ecco, tu di quale squadra sei tifoso? Io sono della Roma è meglio che non... questo periodo è... è un periodo complicato e qual è il tuo modello di riferimento come attaccante a quegli spiedi? Guarda, uno degli attaccanti che mi piaceva di più era Fernando Torres che tra l'altro giocò qui nella Scopigno Cup parecchi anni fa cioè, a me piace tantissimo il giocatore sia come, posso dire, ha cambiato tantissime squadre facendo bene sempre Ecco, proprio per mettere il dito nella piaga ha detto che sei tifoso della Roma qual è il tuo giudizio su Edin Dzeko? Sicuramente è un giocatore che... Marche Giannico! 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 Marche Giannico!iciale! Ach regionale! Giocatore fanno l'hai visto? Mancino il gruppo belli belli Parlovamo appunto di Dzeko Sì Dzeko è un grandissimo giocatore Vedendo il derby ho pensato che se la Roma avesse un giocatore come Ciro Immobile Forse aveva qualcosina in più Ha avuto grosse difficoltà nella sua prima stagione E poi nella seconda stagione nonostante le tantissime reti messe a segno Poi però nei momenti più complicati sembra sempre che manchi qualcosa Infatti stavo dicendo proprio prima con Marco Che è mancato nelle partite importanti È mancato nella partita di Lione, è mancato nel derby Allo Juventus Stadium Quindi secondo me fa un po' fatica nelle partite importanti Ecco, quanto sente le pressioni un attaccante Che magari appunto può aver passato una stagione particolare Oppure può avere difficoltà nel segnare un gol Quanto è importante il gol per un attaccante? Per l'attaccante il gol è vita Non vedi l'ora che attraversi quella riga Per esultare con i compagni Per finalizzare il gioco di una squadra Quindi per un attaccante è delicato il momento In cui non riescono le cose Perché dici, cavolo, com'è possibile? Com'è successo l'anno scorso a Dzeko? L'ambientamento non è mai facile, no? Poi quest'anno ho visto 33 gole, se non sbaglio, del marcatore più... Della storia della Roma Della storia della Roma più importante E niente, quindi è sempre... Tornando a parlare invece di Rieti In conclusione, domenica sicuramente arriva una sfida molto importante Ospitate la Nuorese Come state preparando questa sfida? È una partita delicata Perché a parte con la Nuorese Abbiamo già visto che l'anno scorso ci ha battuto in casa 0-1 Quindi non dobbiamo ripetere lo stesso errore Poi è una partita delicata Perché loro stanno facendo bene ultimamente E cercheremo di vincere E di chiudere al prima possibile Perché è importante continuare in questo momento a stare dietro le altre squadre Perché non è mai facile rincorrere come è successo noi l'anno scorso con la Viterbese, no? Ecco, se ti dovessi sbilanciare in un pronostico Per il risultato finale, non della partita, ma proprio del campionato Non è facile, però io mi auguro che Rieti ce la possa fare Anzi ce la faremo sicuramente Benissimo E allora ringraziamo il Rieti e Francesco Marcheggiani Chiaramente per la disponibilità Siamo in conclusione di questa nona puntata di Divertiamoci Che sarà visualizzabile sia sulla pagina Facebook di Gazzetta Regionale Che poi sul canale YouTube ufficiale Si concludono le nove società laziali di Serie D Con questa rubrica che appunto ha avuto anche la collaborazione della Lega Nazionale Direttanti Che ringraziamo per la condivisione di tutte quante le rubriche Compresa questa che naturalmente verrà poi successivamente condivisa Nell'ultimo mese ci occuperemo di uno speciale sull'eccellenza Che poi verrà svelato direttamente lunedì in edicola su Gazzetta Regionale Grazie Francesco Marcheggiani E se vuoi fare un saluto in conclusione puoi farlo a chi vuoi Grazie a tutti Ringrazio a te Valerio per questa cavalcata a Roma Che non è mai facile Un'ora e mezza ci hai messo Vi ringrazio a tutti Un saluto a tutti quanti Benissimo Grazie ancora Francesco In bocca al lupo Ciao Grazie a tutti